Nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore, l'ospite che abbiamo il piacere di avere in collegamento Skype questa settimana. Lo abbiamo incontrato qualche mese fa, ci ha parlato di un libro, delle riflessioni in particolare in un periodo storico che è molto difficile, che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo, quello appunto della pandemia da Covid-19. Lo ritroviamo per parlare di un libro di qualche tempo fa, ma con un messaggio sempre attuale. Do il benvenuto a fratel Micael Davide Semeraro, monaco benedettino. Bentrovato, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie del vostro invito, grazie a voi. Parliamo oggi di questa settimana di un libro edito dalle Paoline, dedicato a detti il Sum. Il libro si intitola proprio così, Umanità radicata in Dio. Fratel Micael, un libro pubblicato qualche anno fa, ma sempre attuale, come attuale è la figura di Etti Illesum, giovane donna di Amsterdam, di origine ebraica ma non osservante, che ha vissuto sulla propria pelle la Shoah. Prima lontana da Dio e poi che cosa succede? Succede che in una crisi, diciamo così, che chiameremo oggi esistenziale, a 27 anni, Etti Illesum chiede aiuto ad un chirologo, Julius Peer. Un chirologo è uno che curava attraverso la lettura della mano, per intenderci, allievo di Jung. Quindi potete immaginare l'ambiente quale poteva essere, ma quest'uomo, che pure faceva un mestiere così strano, aveva delle intuizioni profonde ed ebbe l'intuizione di aprire il cammino di Etti Illesum ad una guarigione che non passasse attraverso la chirologia, ma attraverso una immersione nella spiritualità, attraverso la lettura della Bibbia, di altri autori come Dostoyevsky, cercando di cogliere attraverso tutta la letteratura, in particolare quella biblica, la radice divina della nostra umanità. E il cammino umano di Etti Illesum, che ora è una donna anche abbastanza, oggi la definiremmo abbastanza attiva dal punto di vista delle sue emozioni, anche dal punto di vista affettivo, diventa una riflessione sempre più interiore che le permette di cogliere il senso profondo persino della grande angoscia che poi dovrà vivere assieme a molti suoi amici e conoscenti della deportazione prima nel campo di Westerbork e poi alla fine ad Auschwitz. Ora, Etti si apre a Dio perché si pone una domanda su se stessa, in modo talmente forte, il senso della sua vita, che diventa poi il luogo di una riflessione su se stessa che genera una estrema compassione per gli altri. Tanto che Etti Illesum sceglierà lei di andare a lavorare nel campo di Westerbork e per varie vicissitudini alla fine, come molti, sarà deportata ad Auschwitz. Il tuo intento in questo libro è ripercorrere il cammino di Etti Illesum cercando di cogliere quali aspetti, quali peculiarità della sua vita ma anche e soprattutto della sua spiritualità? Ma direi che la spiritualità di Etti Illesum è una spiritualità non religiosa ma profondamente di fede, è per questo che è diventato in questi ultimi decenni un personaggio, potremmo dire così, di riferimento trasversale alle varie religioni perché di fatto l'esperienza di Etti Illesum non è religiosa perché lei è un'ebrea di origine ma non praticava, non si convertirà mai al cristianesimo come fece invece Edith Stein, ma rimanendo in questa libertà da forme rituali dogmatiche è andata al cuore di ogni proposta religiosa e soprattutto di quella cristiana cioè una vita che viene spesa per gli altri. Questa parolina per, che è la grande caratteristica del Vangelo e soprattutto dell'esperienza pasquale del Signore Gesù diventa per Etti Illesum una sorta di guida che fa della sua vita non un'esperienza religiosa propriamente detta ma una vita cristologicamente compatibile ed evangelicamente autentica perché? Perché alla fine Etti si libera da tante pastoglie che aveva nella sua vita e soprattutto si apre ad una solidarietà assoluta con i più deboli e con i più poveri per questo il suo messaggio è assolutamente contemporaneo soprattutto in un tempo come quello che stiamo vivendo in cui la compassione è particolarmente necessaria ed urgente. Ecco appunto un messaggio universale, trasversale oserei dire. E certo, certo. Leggo testualmente fratel Michael Davide Etti Illesum ci ricorda che per ospitare la storia dell'umanità non basta semplicemente aprire la porta, anche questa frase davvero molto molto attuale. Ecco, quale significato racchiude questa sua affermazione? Perché di fatto non basta aprire o chiudere la porta, lo viviamo anche in questi tempi in cui tante discussioni, soprattutto in ordine alla questione dei migranti che bussano alla nostra porta, la porta della nostra accoglienza, non si tratta semplicemente di aprire la porta ma di accogliere nella nostra vita e di fare un altro passo, quello di cercare di metterci nei panni degli altri. E potremmo dire che Etti Illesum ha in comune con una donna che lei ha incontrato a Westerbork, Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, proprio questo sviluppo della empatia verso l'altro che non è semplicemente la compassione di elemosina ma aprire la porta, fare entrare l'altro nella mia vita e soprattutto cercare di entrare nel suo modo di sentire, di vivere, di soffrire, di amare, di gioire. E questo ci rende fratelli e sorelle in umanità che è il fine persino della nostra vita cristiana. Mi ha colpito molto un capitolo, a pagina 56, quando prendi ad esempio delle parole perle, molte perle che si trovano tra le parole di Etti Illesum e scrivi potremmo osservare nel nostro cuore una parola forte apparentemente banale, tuttavia, tra le altre parole anche realtà e molte altre, tuttavia è quella che in un certo senso mi ha un po' incuriosita. Lasciaci con un messaggio legato proprio a questa parola, tuttavia, che Etti Illesum utilizzava. Siamo in un tempo difficile, ci verrebbe da pensare a conservare i nostri privilegi come persone, come società, come cultura, tuttavia, questo momento difficile potrebbe diventare la grande occasione per il nostro mondo occidentale di passare dall'egoismo ad una vera solidarietà umana. e in questo, nonostante, questo ci fa sentire quasi di perdere qualche sicurezza, qualche privilegio, tuttavia questa è la strada della felicità condivisa. Io credo che la grande sfida per noi, soprattutto occidentali, anche alla luce di quello che siamo eventi in questo tempo, è passare dai diritti acquisiti ai doveri condivisi. E questo è un cammino in cui noi cristiani dovremmo essere in prima linea. Ci ritieni possibile di una cosa del genere, quindi rinunciare un po' a questi diritti acquisiti? Io penso che non abbiamo altra scelta, perché altrimenti i passi dei poveri, come dice il profeta Isaia, ci macineranno, perché i poveri non possono sopportare di soffrire per pagare i nostri privilegi. Questo non è più pensabile. E quindi direi che ci conviene, tra virgolette, di cambiare direzione, di cambiare strada, di cambiare orientamento, come ci ricorda continuamente, soprattutto in questi giorni, l'ha ripetuto anche nelle ultime udienze, Papa Francesco. Vorrei ricordare nuovamente il titolo del libro firmato da fratello Micael Davide Semeraro e Tillesum, Umanità radicata in Dio, edito dalle Paolino, libro che di qualche tempo fa, però si trova sicuramente in libreria. Lo consiglio a tutti quanti i nostri telespettatori, insieme ad altri scritti, tra cui quello di cui abbiamo parlato qualche mese fa, le riflessioni sulla pandemia, sulle quali ci siamo anche confrontati, fratello Micael. Una curiosità, hai qualche altro libro in cantiere oppure per il momento ti stoppi, ti dedichi alla meditazione, al tuo essere monaco Benedettino e magari ci ritroveremo il prossimo anno con un nuovo libro? Ho tradotto un libro molto bello di un mio confratello francese, Sorella Anima, edito da Terra Santa, un libro molto bello che vi consiglio di leggere, sto traducendo un libro su Giona, molto bello, e sto scrivendo, vorrei scrivere prossimamente, un commento al libro di Giuditta, perché ci vuole anche un po' di forza per affrontare i tempi che abbiamo davanti a noi. Bene, allora sicuramente avremo modo di incontrarti prossimamente per questi colloqui che davvero ci riempiono il cuore. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buona meditazione e grazie ancora a tutti voi. Appuntamento alla prossima settimana contro le righe.